Pronto? Pronto? Parlo con il signor Cellaccia? Sì, con chi parlo? Salve, la chiamo dal pronto soccorso dell'ospedale San Gele L'ospedale San Gele? Purtroppo ho da dare una brutta notizia Signorina, non mi faccia preoccupare Sua moglie è stata ricoperata d'urgenza qui da noi Mia moglie A causa delle forti piogge è stata trascinata via dall'acqua Forte piogge? Buttana dama in seria va Ma prego non faccia così Già ho fatto lavare la macchina ma ancora non fa Va a farlo va